Coronavirus, altri 132 positivi in regione e 30 nuovi casi nella provincia pesarese. L'ospedale di Pesaro, la parola ai primari di rianimazione e pronto soccorso. L'azienda pergolese Noctis Spa avvia la produzione di mascherine e camici sanitari. Lavori e cantieri fermi in città, il punto con l'assessore Belloni. Buonasera e benvenuti al nostro telegiornale in questo venerdì 3 aprile. Questa è la prima edizione, poi vi ricordo sempre la replica alle 20 e 40 e alle 22. Come sempre vi ricordiamo che bisogna continuare a stare a casa e come sempre vi ricordiamo anche le regole che bisogna seguire per evitare il contagio. Guardiamole insieme. Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone oppure usare gel a base alcolica. Non toccare, non tocarsi con le mani, occhi, naso e bocca. Evitare le strette di mano e gli abbracci. Quando starnutisci copri bene bocca e naso con fazzoletti monouso, altrimenti usa la piega del gomito. E poi chiaramente evitare assembramenti o luoghi troppo affollati. E mantenere la distanza di almeno un metro dagli altri. Se hai sintomi come tosse, raffreddore o difficoltà respiratorie, non recarti al pronto soccorso, mi raccomando, ma contattare telefonicamente il tuo medico di base. E noi andiamo subito in questo primo servizio di Daniele Romagna guardando tutti gli aggiornamenti quotidiani sull'emergenza coronavirus nella nostra regione. Salgono a 4.230 i casi accertati di coronavirus su tutto il territorio marchigiano, con 132 tamponi risultati positivi in più di ieri rispetto ai 735 analizzati. Di questi, come riportato dal gruppo operativo per le emergenze sanitarie, 1.786 sono sul territorio di Pesor Rubino, con un aumento di 30 contagi, invariato il numero delle vittime. Anche ieri infatti sono stati registrati 31 decessi. In crescita i pazienti dimessi e guariti, che arrivano ad essere complessivamente 274. Questa mattina la direzione dell'azienda ospedaliera Marche Nord ha accolto tre anestesisti volontari della Task Force Permanente della Protezione Civile Nazionale, per garantire un supporto agli ospedali in condizioni critiche per l'emergenza coronavirus. I tre medici reclutati per Marche Nord provengono da Umbria, Toscana e Abruzzo, e già da questa mattina sono in ospedale per sostenere i loro colleghi. Resteranno fino al prossimo 21 aprile, come annunciato dal direttore generale di Marche Nord, Maria Capalbo, e verranno impegnati nei reparti di terapia intensiva dell'ospedale San Salvatore, che ormai conta oltre 35 posti letto. Nel frattempo, ieri sono terminati gli allestimenti esterni dell'ospedale da Campo di Iesi. Ultimati oggi invece i lavori interni, come annunciato dal presidente della regione, Luca Ceriscioli, per rendere operativa la nuova struttura il prima possibile. Slitta ancora invece l'apertura della struttura sociosanitaria di Villa Fastigi. La principale difficoltà riscontrata è il reperimento di medici che possano seguire i futuri pazienti ospiti del centro. Nella regione Marche, la provincia più colpita per l'emergenza coronavirus è sicuramente quella pesarese. Questa mattina quindi abbiamo intervistato il primario del reparto di rianimazione e anestesia dell'ospedale di Pesaro, il dottor Michele Tempesta, e anche il primario del pronto soccorso, Umberto Gniudi, per fare il punto sull'ospedale e sui numeri nella nostra città. Vediamo. I numeri e i dati aggiornati quotidianamente riguardanti il coronavirus sul nostro territorio segnalano come la provincia di Pesaro Urbino sia stata la più colpita dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Enorme è stato quindi l'impegno affidato all'ospedale pesarese, come ci hanno spiegato il primario del reparto di anestesia e rianimazione, il dottor Michele Tempesta, e il primario del pronto soccorso di Pesaro, il dottor Umberto Gniudi, che ci hanno anche descritto il quadro della situazione attuale. La terapia intensiva è occupata da 32 pazienti, quindi non siamo al limite, un lievissimo segnale di miglioramento c'è, speriamo che continui così. La terapia intensiva che all'ospedale è stata allargata e ridimensionata? È stata allargata tantissimo, da 7 a 40 posti letto, praticamente 39. Adesso abbiamo questo bar lume di speranza, ma deve essere assolutamente confermato nei prossimi giorni, insomma è troppo assolutamente presto per dire che possiamo tirare il fiato. È cambiato anche il profilo dei pazienti ricoverati in terapia intensiva a livello di età e di patologie? Si è abbassata molto l'età dei ricoverati, ma all'inizio c'erano soprattutto pazienti sopra i 70 anni, adesso mediamente hanno 60-65 anni i nostri pazienti. L'agenza media dei pazienti che si trovano ricoverati in terapia intensiva? L'agenza media, questo a livello nazionale, intorno ai 20 giorni. Questo qui prevede che se delle persone ci stanno molto poco per gravi problemi di base, vuol dire che qualcuno ci sta anche 30-35 giorni. Noi abbiamo ancora qualcuno che è dall'inizio, però quando è esploso il focolaio, fine febbraio, inizio marzo, è ricoverato da noi. Anche l'ospedale di Pesaro ha dotato l'uso dei farmaci sperimentali, come ad esempio abbiamo sentito quello contro l'artrite? Si, l'abbiamo dotato da subito, nei limiti della disponibilità del farmaco. Gli effetti sono abbastanza altalenanti come effetti. Io come medico della terapia intensiva ho notato che è abbastanza poco efficace nei pazienti già in un stato avanzato della malattia. Probabilmente è molto più efficace nelle fasi iniziali. Come sta il personale della terapia intensiva? È allo stremo, è allo stremo il personale. Ha dato tanto in questo mese. Ancora tiriamo avanti naturalmente, perché non c'è alternativa. però sarebbe importante avere una diminuzione dei casi e quindi dei posti letto in animazione per noi. Gli accessi sono un po' diminuiti. Sembra che stiamo rallentando, non solo come numero di contagi, che quelli dipendono anche dalla quantità di tamponi che vengono fatti, ma vedendo dal pronto soccorso il numero dei ricoveri sta cominciando a diminuire. È ancora diminuito in maniera non grande, ma qualcosa si sta muovendo. Per raccogliere un numero maggiore di pazienti sono necessarie le tensostrutture che possiamo vedere anche qui all'esterno dell'ospedale che sono state appunto installate fuori dal pronto soccorso? Sì, esattamente. Nel periodo di grande emergenza erano sempre piene. Adesso per fortuna ci servono come polmone in caso di afflussi aumentati che in certi giorni, in certe ore della giornata possono esserci, ma sono più spesso vuote per fortuna. Questo è un buon segno. Il numero di contagi a Pesaro ha fatto rumore a livello nazionale. È possibile quindi che il virus fosse già qui nella nostra città presente prima di febbraio? Sembra che il virus fosse presente prima di febbraio un po' dappertutto. Noi siamo stati sfortunati e abbiamo anticipato quello che probabilmente sarebbe stato il quadro anche di altre province, altre regioni, se non avessero fatto tesoro della nostra esperienza e dell'esperienza lombarda. Le misure di restrizione dei contatti sono le uniche efficaci e si sta vedendo in questi giorni l'effetto di queste misure. Altri sono partiti prima di noi perché hanno avuto la nostra esperienza e quindi io auguro loro e auguro a tutta l'Italia di avere meno contagi di quelli che abbiamo avuto noi qui. Per chiudere, come sta il suo team e la sua squadra? Stanchi e stiamo continuando a fare il lavoro. Il lavoro sta diventando un pochino più rutinario, se si può dire così, perché ci stiamo adattati sia come organizzazione aziendale sia anche come tipo di lavoro. Avremo bisogno di riposo dopo perché siamo tutti molto provati e stiamo già pensando alla riorganizzazione in vista del dopo, perché bisogna pensare anche a questo. L'emergenza sanitaria e i successivi decreti ministeriali emessi dal governo hanno fermato anche tutti i lavori che erano in corso nella città di Pesaro. Abbiamo quindi fatto il punto della situazione con l'assessore all'operatività Enzo Belloni. Avevamo parecchi lavori in corso e in questo periodo li abbiamo dovuti sospendere praticamente al 90% in quanto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri vieta a diverse lavorazioni. Il Palazzo dello Sport di Viale dei Partigiani è uno di questi, uno di quegli interventi importanti strategici per questa amministrazione comunale. Non possiamo andare avanti anche se la ditta era intenzionata a proseguire i lavori. Cosa diversa invece è per quello che riguarda il ponte su Via Lamarca, il ponte della Statale. Lì avremmo potuto lavorare, siamo arrivati a completare la parte sotto del ponte, mentre il manufatto che andrà a sostituire la parte danneggiata non possiamo lavorare perché il fornitore del manufatto ha chiuso l'attività, anche se la ditta era pronta per il lavoro, però il produttore del manufatto che va a sostituire il vecchio ponte non lavora. Quindi aspettiamo in qualche modo dopo Pasqua che danno il via alle attività produttive per partire appunto con il ponte di Via Lamarca. Stiamo lavorando sulla parte progettuale e il bando di gara del Cavalca Ferrovia. Ovviamente questi erano gli interventi sia a Cavalca Ferrovia che ponte sulla Statale e che se potevamo fare in questo periodo di settimane sfortunate era un grande vantaggio per tutta la viabilità, per la comunità, per tutti quanti. Ma purtroppo operai stanno male, le ditte chiudono, siamo costretti a rinviare il lavoro. Stessa cosa succede anche per gli altri interventi che avevamo in piedi come il Palm Track, lo Skate Park, la Tribuna di Santa Veneranda, il campo di Vismara, i ripascimenti, le scogliere, la ditta che si è giudicata all'appalto, per esempio non è in grado di trasferire i propri operai nel nostro territorio. Quindi purtroppo dovremmo aspettare momenti migliari che ci auguriamo arrivino nel giro di poche settimane. Anche la stessa strada del Famila che è arrivata a un buonissimo punto di realizzazione, però in questo momento la ditta non è in grado con le forze lavoro di continuare il lavoro. Il momento è delicato, appena ci daranno il via saremo in grado di ripartire almeno con le lavorazioni quelle un pochino più semplici e dovremmo avere pazienza, ma la cosa più importante in questo momento è riuscire a risolvere il problema di questo maledetto virus. Ed ora ci spostiamo a Tavuglia perché dopo l'annuncio del sindaco attraverso una diretta Facebook, il sindaco la vedete appunto qua nella foto, il comune di Tavuglia ha iniziato la consegna di una mascherina per famiglia in tutte le frazioni del comune. Il tempo previsto per coprire tutto il territorio sarà di una settimana e a consegnarle saranno il sindaco in persona, gli amministratori, i consiglieri e i volontari delle associazioni sul territorio. Necessario quindi di fidare di persone non accreditate alla consegna. Alla mascherina verrà legata una lettera che sarà segno di riconoscimento. Durante questo periodo di emergenza sanitaria arrivano per fortuna anche buone notizie. Parliamo infatti della storia di Luca Cecchettini, 44enne pesarese affetto dalla sindrome di Down, che dopo quasi tre settimane di ricovero negli ospedali di Senigallia e Chiaravalle è riuscito a sconfiggere il coronavirus e a tornare a casa dai propri cari. I ringraziamenti di Luca ai dottori, parenti e amici e il saluto a due compagni della cooperativa T41 scomparsi a causa del virus sono contenuti in un video che ha già fatto il giro del web. Pensieri condivisi ovviamente anche dalla sorella Lara che attraverso i suoi canali social ha voluto ringraziare tutto lo staff medico che si è presa a cura del fratello in questo difficile momento ormai trascorso. Ieri in occasione della giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo il barco di Urbania si è tinto di blu. Uno spettacolo di luci attraverso cui il comune fa manifestare la propria vicinanza a tutte quelle famiglie che convivono tutti i giorni con l'autismo, a maggior ragione in questo momento di isolamento e difficoltà. Si sono riunite ieri in videoconferenza le associazioni immobiliare ASPI, UPI, Union Casa, Confedilizia e Confabitare. Dopo un'ampia discussione le associazioni dei proprietari hanno stabilito che qualsiasi accordo privato per la riduzione del canone locativo tra proprietario e conduttore può essere considerato legittimo. Le associazioni dei proprietari immobiliari si riservano di concordare eventuali modalità di agevolazione del canone locativo alla luce dei provvedimenti governativi e delle misure di sostegno che verranno adottate. Ed ora ci spostiamo a Fano perché il sindaco Massimo Seri e il vice sindaco con delega alla protezione civile Cristian Fanesi hanno preso parte ieri mattina ad un sopralluogo all'interno dello stabile dell'ex convitto Vittoria Colonna di via Montegrappa insieme con i referenti di ASUR, area vasta 1 e della protezione civile locale e regionale. L'ispezione era finalizzata a verificare lo stato della struttura che ha circa 100 camere indipendenti con bagno ai fini di un eventuale impiego nell'ambito dell'emergenza Covid-19 come luogo dove ospitare situazioni di contagio leggere o di isolamento non gestibile da casa. Ne è emerso che l'edificio si trova in buono stato dal punto di vista strutturale. Sono stati rilevati limiti solamente alla funzionalità degli impianti idraulici e termici sui quali sarebbero necessari alcuni interventi nel caso di un effettivo utilizzo dell'ex convitto da parte della protezione civile. In un momento difficile come quello che stiamo vivendo sono tanti gli aiuti che arrivano anche dai privati per contribuire a risolvere il problema del coronavirus. Parliamo oggi di un'azienda di Pergola, si chiama Noctis Spa, è leader italiana nella produzione di letti tessili che ha avviato una linea di produzione di mascherine chirurgiche e di camici igienico-sanitari. Vediamo. L'assenza di mascherine e di dispositivi di protezione individuale è uno dei grandi problemi riscontrati nell'emergenza sanitaria tuttora in corso. Una mancanza a cui un'azienda del territorio ha deciso di dare una risposta concreta. Noctis Spa, azienda pergolese, leader italiana nella produzione di letti tessili, ha infatti attivato una linea di produzione di mascherine chirurgiche e camici igienico-sanitari per correre incontro alle esigenze della popolazione. Noctis è un'industria nata nei primi anni 90 che opera nel settore dell'arredamento e produce a Pergola, in provincia di Pesaro, letti tessili e complementi di arredo. In questi anni abbiamo acquisito un posto di rilievo fra le aziende del Made in Italy in questo settore. Attualmente il nostro asset dispone di 160 dipendenti diretti su una superficie di circa 20.000 metri quadrati e un'importante filiera sul territorio. I nostri prodotti vengono esportati un po' in tutto il mondo ma prevalentemente lavoriamo per il mercato italiano dove la distribuzione avviene attraverso una fitta rete di rivenditori. L'idea di convertire una parte della produzione a favore di un prodotto come le mascherine e i camici sanitari nasce purtroppo dall'emergenza di questo momento storico molto tragico e da un forte sentimento di solidarietà nei confronti di tutte quelle persone che oggi a causa di questo maledetto virus rischiano la propria vita, hanno bisogno spesso di dispositivi di sicurezza. Quando ho trasmesso ai miei figli e ai miei collaboratori più stretti l'idea ha trovato subito un grande entusiasmo così nel giro di qualche giorno si è formata una squadra eccezionale che ci ha praticamente permesso in tempo reale di iniziare la produzione. Il pensiero è stato anche quello di preservare posti di lavoro perché francamente il futuro incerto un po' ci mette a pensiero. L'azienda ormai è un bene sociale per il nostro territorio e questa responsabilità ce la sentiamo addosso. Su impulso del nostro titolare Piero Priori è nata l'idea di implementare un reparto produttivo dedicato alla produzione di mascherine di tipo chirurgico. Abbiamo proceduto ad un'analisi estremamente approfondita e rigorosa delle linee guida fornite dall'Istituto Superiore di Sanità per procedere alla produzione di mascherine chirurgiche. Quest'ultimo è un presupposto fondamentale. Voglio ribadire la ferma intenzione dell'azienda infatti di mettere in commercio delle mascherine che salvaguardino la salute degli utilizzatori informandoli in maniera molto chiara circa le caratteristiche del prodotto che stanno utilizzando. Le mascherine chirurgiche infatti possono essere messe in commercio con questa denominazione a condizione che soddisfino i requisiti indicati in due distinte normative. Una di queste è già in nostro possesso in quanto ci viene fornita dal produttore del tessuto che utilizziamo per la produzione delle mascherine. Per quanto riguarda l'altra, quella cioè che misura il livello di protezione della mascherina dal virus, sono in atto le prove tecniche di laboratorio. Una volta ottenute le certificazioni necessarie, avremo la certezza di poter fornire le mascherine anche agli operatori sanitari. Attualmente abbiamo una capacità produttiva di 15.000 pezzi al giorno, ma contiamo di riuscire nel giro di breve a raddoppiare questi numeri. Per tutti coloro che sono interessati all'acquisto delle nostre mascherine o vogliono semplicemente avere delle informazioni, possono inviare una richiesta a un indirizzo mail dedicato che abbiamo attivato, che è il seguente. N-Mask, con la k finale, chiocciola noctis.it. E come ben sapete, tra le poche uscite consentite ai cittadini in questo periodo, ci sono quelle per andare a reperire generi alimentari e proprio i centri commerciali hanno dovuto riorganizzare le proprie strutture per garantire la sicurezza dei dipendenti e degli stessi acquirenti. Ne abbiamo discusso con Alberto Moretti, che è amministratore di Iperconad, che nell'intervista ha annunciato novità all'interno del supermercato anche per quanto riguarda l'utilizzo dei buoni spesa erogati dal comune. Vediamo. L'ipermercato, l'Iperconad, in virtù di questa situazione, ha dovuto fare dei cambiamenti veloci, importanti, per poter garantire ai propri clienti il miglior servizio possibile. Al momento abbiamo messo in piedi delle entrate contingentate, quando ci sono i momenti di maggiore affluenza. All'ingresso c'è la presenza di dispenser con dei gel sanificanti. Tutti i reparti a servizio e nelle casse dove ci possono creare dei momenti di attesa ci sono delle strisce a terra che comunicano l'obiettivo di tenere la distanza di almeno un metro tra un cliente e l'altro. Ci sono comunicazioni all'interno del punto vendita, ma soprattutto la radio, la radio interna, ripete quotidianamente quelli che sono i messaggi che il Ministero della Salute chiede di divulgare. Come Iperconad abbiamo messo in piedi delle attività straordinarie di igienizzazione e sanificazione di tutto quanto l'ipermercato e tutti i nostri dipendenti sono dotati di mascherine e di guanti. Essendo un punto vendita di oltre 8 mila metri quadri, si verifica spesso che la distanza tra un cliente e l'altro è di decine di metri e non di un metro e questo ci aiuta per dare un ottimo servizio e una grande tranquillità. È anche vero che nel corso della giornata ci sono dei momenti come quelli del pomeriggio dove ci può essere una minore affluenza. Abbiamo deciso per queste settimane fino al giorno di Pasqua di tener chiuso il punto vendita alla domenica pomeriggio per cercare anche di dare un momento di respiro ai nostri collaboratori. È una misura straordinaria. Noi riteniamo che nel più breve tempo possibile quando ci saranno le opportunità per tornare a una situazione più normale, è opportuno ritornare ai vecchi orari dalla mattina alla sera perché più ampio è l'orario d'apertura, minori sono le occasioni per creare forme di aggregazioni tra la clientela. Ai clienti chiediamo di entrare con le mascherine, questa tutela soprattutto delle altre persone, possibilmente di utilizzare dei guanti e venire da soli. Da soli è importante perché così si evitano momenti di aggregazione di persone. Il Comune mette a disposizione per le famiglie in difficoltà 500 mila Euro per i bisogni alimentari di prima necessità. Su richiesta del sindaco Matteo Ricci, Iperconad è a fianco di questa iniziativa e metterà un 10% di sconto sul valore del buono per tutti i clienti che vengono a fare la spesa presso l'ipermercato. L'emergenza coronavirus non ha fermato l'attività della Onlus Gulliver. L'associazione continua infatti a consegnare settimanalmente i pacchi alimentari alle famiglie meno abbienti. Abbiamo intervistato il presidente della Onlus, Andrea Boccanera. La Onlus Gulliver continua la sua attività con i volontari. Sì, continuiamo. Abbiamo chiuso le nostre due sedi di piazzarea di Via Rossi, ma rimane aperta la grande sede, la nuova sede in Metoscana 111. Le nostre attività che rimangono in piedi sono la consegna di pacchi alimentari gratuiti e la consegna di elettrodomestici alle famiglie bisognose che gli si guastano i metodomestici, frigo, stufa o altro. I pacchi alimentari ne facciamo una settimana e abbiamo moltissime famiglie che seguiamo, quindi loro vengono in autonomia a prendere il pacco alimentare e in più per quelle famiglie, per gli anziani che non riescono a uscire di casa, li portiamo noi con i furgoni e con i volontari. Abbiamo sì delle nuove famiglie, persone che sono in momento difficoltà. A queste famiglie non chiediamo l'ISE per adesso, le aggreghiamo al nostro progetto e possono trovarci tramite Facebook o Andrus Gulliver Pesero o tramite motore di ricerca, basta digitare Pesero o Andrus Gulliver. Ci contattano e possono essere messi in lista per l'attività dei pacchi alimentari, quindi nel ricevere settimanalmente un pacco alimentare, pasta, olio, pomodori, legumi, quello che poi c'è in magazzino che grazie al Banco Alimentare è ben fornito e attrezzato. In più per gli elettrodomestici, idem, possono contattarci, le famiglie bisognose che hanno un frigorotto, non sanno come o ripararlo o prendere un altro, lo portiamo tranquillamente a casa con i volontari e cerchiamo con la nostra attività di dare una mano a una popolazione di Pesero in collaborazione con il Comune e la protezione civile, quindi i nostri volontari sono attivi e al servizio della città di Pesero. Quest'anno tentiamo di ripetere l'ottava edizione della Fiera del Riuso, una festa bellissima, riuso e riciclo, canti, balli, palco, stand gastronomici, esibizioni musicali e mercatino e adesso tentiamo di ripetere l'ottava edizione dal 30 maggio al 2 giugno. Non prendiamo la cosa da leggera perché come me stesso e altri volontari lavoriamo in ospedale e viviamo con mano la situazione in ospedale e nei reparti, quindi non prendiamo la leggera da quella situazione, ma speriamo che questo possa essere il primo grande evento libero dove poterci ritrovare, al Parco Scarpellini, dal 30 maggio al 2 giugno e festeggiare e bere e bridare con un vino rosso ai tanti amici che ci hanno lasciato e alla vita che continua. E prima di chiudere questa edizione del nostro telegiornale, ci è arrivata un'ultima ora proprio dal presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli. Infatti dalla prossima settimana partirà uno screening sierologico per il Covid-19, a cominciare dalle aziende ospedaliere di Torrette e Marche Nord. I due principali poli ospedalieri della Regione dunque stanno apportando tutte le misure più idonee per far partire entro la prossima settimana i test sierologici, cioè quelli che rivelano se un individuo sano, senza sintomi, è stato contagiato da virus e ha sviluppato gli anticorpi che lo difenderanno dall'infezione. Agli ospedali riuniti di Ancona lo screening partirà nei primi giorni della prossima settimana perché il macchinario specifico è già arrivato e sarà effettuato il test a tappeto su tutti i dipendenti. Partirà invece a brevissimo anche all'azienda ospedaliera Marche Nord lo screening per la ricerca di anticorpi anti-Covid al personale dipendente. E vi ricordo che questa sera, subito dopo questa edizione del telegiornale, ci sarà una nuova puntata dei Senza Giacca. E poi in prima serata alle 21.10 potrete rivedere tutta l'intervista che abbiamo fatto in diretta oggi pomeriggio con il sindaco Matteo Ricci che ha risposto alle domande dei cittadini. E chiaramente vi consiglio sempre di mandarci le vostre domande, i vostri quesiti sulle cose che non vi sono chiare magari proprio in questa emergenza coronavirus utilizzando il nostro numero whatsapp 370-366-7210. E poi l'appuntamento con la messa della domenica, ecco qui una delle celebrazioni religiose su Rossini TV per il periodo pasquale che vi ricordo saranno anche la prossima settimana. Intanto domenica alle ore 10 in diretta e faremo rivedere anche la replica alle 16.30 in occasione della domenica delle palme, trasmetteremo la Santa Messa in diretta dal Duomo di Pesaro, ufficiata celebrata dal Monsignor Piero Coccia. Vi ringrazio per essere stati con noi, anche questa sera il prossimo appuntamento con l'informazione torna nel fine settimana con i Rossini News Week, quindi tutti i servizi realizzati dal nostro telegiornale, dalla nostra redazione in settimana li potrete rivedere sabato e domenica sulla nostra tv, mentre la rassegna stampa tornerà lunedì alle 7.20 in diretta sia tv che facebook. Grazie e buon weekend!